Nuova vita per gli occhiali usati da vista o da sole. Le lenti con gli anni si cambiano, le montature con la moda vengono superate e gli occhiali si accumulano, ma tante persone non riescono nemmeno a comprarli. Da questo parte l'utile iniziativa in 50 farmacie di Federpharma nel territorio di Verona in collaborazione con i Lions International. Sì, è una bellissima iniziativa la quale aderisce Federpharma Verona con l'Ions della provincia di Verona e di Vicenza. Consiste nella raccolta, riconoscendo la farmacia come punto di riferimento, di quelli che sono gli occhiali usati, inutilizzati quindi. Occhiali sia da vista che da sole. È una raccolta finalizzata poi a un riutilizzo sociale. Infatti come Federpharma teniamo molto a ricondurre la farmacia ad un aiuto, ad una mano tesa verso il sociale. In questo caso gli occhiali vengono sterilizzati, vengono mandati sia all'estero sia in punti di ridistribuzione del nostro paese dove vi sia la necessità e l'impossibilità a sostenere la spesa. Gli occhiali, una volta rimessi a posto, saranno spediti nelle zone del sud del mondo e rappresenteranno un vero cambiamento di vita per chi li indosserà. Mentre per noi spesso sono solo una seccatura in più a riempire un cassetto con qualcosa magari di un qualche valore ma comunque inutilizzato. Assolutamente nei cassetti ma anche a volte finiscono nei cassonetti invece stiamo riconoscendo grazie a questa campagna che sono un bene utile, riutilizzabile e di valore. Di valore che viene acquisito tramite proprio la ridistribuzione e il riutilizzo secondo necessità. Quindi l'incoraggiamento è anche a tutti i cittadini di recarsi nelle 50 farmacie di tutta la provincia aderenti al progetto per donare questi occhiali prima del cambio, prima di, come dice lei, accantonarli in un cassetto. A noi tornano utili, tornano utili non soltanto a noi, sia che abbiano una buona lente graduata sia che abbiano una lente protettiva solare.